Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In FIPILI per lavori un chilometro di coda tra Empoli e Montelupo Fiorentino verso Firenze, rallentamenti tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est in direzione Livorno. Per questi lavori è entrata chiusa Empoli Est verso Firenze. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sulla strada regionale 429 di Valdelsa, senso unico alternato per restringimento della carreggiata al chilometro 47.550 nel comune di Certaldo fino al 9 novembre in orario 8.18. Sulla strada provinciale 11 Pisana per Fuscecchio, senso unico alternato per restringimento di carreggiata tra i chilometri 3.815 e 3.945 nel comune di Cerreto Guidi fino al 4 novembre. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!